Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fare Lega nella vostra città più difficile, nella vostra provincia e nella città più difficile. Pensate ai leghisti del vostro territorio e al vostro territorio più difficile. E adesso pensate quanto è difficile fare Lega Nord e fare i giovani padani a Perugia, a presentare le liste del mondo a Perugia. Andando alla frontiera con anche l'università a fare il coraggio finanzo. Loro sono dei nostri capi di frontiera. Grazie a tutti. Lui lo sa bene, anche Lucio lo sa bene quanto è difficile perché loro c'erano effettivamente nel momento in cui abbiamo fondato il movimento universitario. Io vi ringrazio, ti ringrazio anche per darmi questo piccolo spazio per parlare. Io arrivo dall'Umbra che è una terra effettivamente difficile che non si sente forse tiramente in alto ma che non vuole assolutamente scivolare a sud, verso sud. Grazie a tutti. Grazie a tutti.